Siamo benvenuti a tutti, dicevo il progetto di Skyway sta andando avanti, ho diffuso delle notizie fondamentali che praticamente Juninsky è tornato a presentare il progetto della prima linea di 400 metri negli Emirati Arabi, comunque facciamo una carrellata per Gisella che è la prima volta che si interfaccia al progetto Skyway, il progetto Skyway nasce tutto dalla testa e il ragionamento di un uomo che è Anatoly Juninsky, è un ingegnere, è un ingegnere autore progettista generale della tecnologia di Stringa, è il capo dei progetti anche delle Nazioni Unite, membro della federazione cosmonautica dell'ex Unione Sovietica, autore di oltre 150 invenzioni, autore di oltre 20 monografie e più di 200 articoli scientifici, è il presidente del consiglio di amministrazione progettista generale della Skyway Technology nella Repubblica di Bielorussia e del gruppo internazionale di società Skyway, è quello che io definisco Leonardo da Vinci di questo secolo, perché? Perché è partito nel 1977 con un progetto nella sua testa, rivoluzionario e quattro anni fa, esattamente proprio oggi, quattro anni fa ha messo la prima pietra miliare nell'Ecotecnopark in Bielorussia e da quattro anni fa ad oggi ha invitato 32 delegazioni di diversi paesi che hanno visitato l'Ecotecnopark, fiere internazionali dei trasporti, brevetti in diversi paesi, 83 per l'appunto, quindi il successo dello sviluppo della tecnologia dipende da un forte team internazionale. L'azienda ha più di mille persone che hanno praticamente portato la tecnologia ad essere a livelli più alti di performance, di studio, di progettazione con software di ultimo livello per eccellenza. Quindi è tempo di cambiamenti globali nel settore dei trasporti, Skyway è più sicuro, più veloce, più economico di qualsiasi altro trasporto esistente. Risolve efficacemente qualsiasi problema di trasporto e infrastruttura. In questi giorni l'Unibus ad alta velocità è in preparazione per diverse prove, quelle della autoalimentazione elettrica, che sono state comunque iniziate durante l'Ecofestival in agosto. Sappiamo che la forma di questo Unibus è aerodinamica e diciamo che ha portato a avere un coefficiente di aerodinamicità fattore CX di 0,06 contro lo 0,4 degli automobili normali e 0,2 degli automobili da corsa. Quindi siamo vicini, prossimi al valore teorico e sappiamo che i consumi energetici diminuiscono abbondantemente all'aumentare della velocità. Quindi meno 30% a 60 km orari, meno del 90% a 300 km orari. Buonasera Natalino, mi dispiace perché Gisella ha problemi di linea, non la vedo più connessa. Quindi diciamo una cosa importante, quindi la tecnologia Skyway si posiziona da un punto di vista del tempo di consegna e del costo in un punto decisamente più favorevole rispetto alle navi per il costo e prossimo a quello dell'aero in termini di consegna. Se volete potete andare sul sito www.uninsky.com dove comunque si hanno delle notizie sulla storia e sulla vita di Uninsky partire dal 1977 quando ha cominciato i suoi primi schizzi su foglio. Oggi Skyway è una realtà importante, ci si avvicinano tutte le maggiori aziende fornitrici di materiali e quindi sono proiettati allo sviluppo commerciale, siamo nella fase commerciale dove i fornitori si predispongono per fornire materiali, materiali per le infrastrutture, per i mezzi rotabili e quindi c'è stato in questi quattro anni uno sviluppo enorme. Ci sono tantissime possibilità, diverse tipologie di linea e mezzi che vanno dall'unibus dall'unibike a due posti all'unibus a 68 posti. Qui vedete le foto più rappresentative dell'Eco Festival dove c'erano presenti molte persone e quindi c'erano tantissimi tantissimi personaggi di tutto il mondo tra i quali ci sono anche persone che hanno portato il terriccio per creare l'humus universale che Skyway sta diciamo producendo per andare a fertilizzare anche territori molto molto inadatti per la coltivazione quali il deserto. Anatoli Uninsky in questi giorni abbiamo detto che è presente negli Emirati Arabi dopo l'intervista che ha fatto scorsa settimana, è andato a presentare all'emiro di Sharia la nuova linea, la nuova linea che è stata fatta su 400 metri, ci sono due piedistalli, due stazioni, una da partenza e una di arrivo e è stato fatto vedere anche un servizio direttamente dai canali televisivi degli Emirati Arabi e questo è al centro del mondo nel senso che tutte le aziende, le società hanno puntato i riflettori su questi progetti, queste innovazioni. I canali televisivi Sharia24 e ShariaTV hanno trasmesso i primi servizi il 26 ottobre, quindi qualche giorno fa è l'emiro di Sharia, Sultan bin Mohammed Al Qasimi ha visitato il parco di ricerca e sviluppo di Sharia e ha benedetto il lancio del trasporto di stringa Skyway e Sharia. Un mio amico che lavora sulle navi da crociera, uno chef importante, che ne approfitto per salutare, ciao Enrico, ci ha condiviso una testimonianza sua di un collega che pochi mesi fa lavorava sulla terraferma, ovviamente in qualche ristorante molto importante negli Emirati Arabi e gli ha portato testimonianza del fatto che a Sharia si parla solo di Skyway, è tutto tappezzato, tutto, insomma Skyway è all'ordine del giorno in questi, in questo posto, quindi è di notevole importanza il fatto che la notizia di cui si parla di Skyway molto intensamente in questi paesi che sono al centro del mondo per l'innovazione tecnologica, vogliono, gli arabi vogliono essere al centro del mondo, loro sono molto appariscenti, vogliono sempre l'anteprima di tutte le novità e questo è un eco importante per Skyway che è il trasporto, ha detto di Unischi, ma ha detto anche adesso della dimostranza delle linee, il più sicuro al mondo, il più ecologico, il più efficiente e dovrebbe essere in tutto il mondo. approfitto di salutare anche Bruno, buonasera, complimenti davvero perché siete sempre costantemente collegati e questo va a dare atto e valore alle vostre scelte di aver partecipato a questo grande progetto e giustamente volete anche sapere e conoscere gli esiti di tutte queste situazioni. Quindi dicevo, nel servizio di Sharia 24, che lo potete trovare anche in versione originale, Anatole Uninsky, che è appunto il fondatore del progetto Skyway, ha detto che i progetti di Skyway negli Emirati Arabi vengono realizzati da una società appositamente creata che si chiama Skyway Green Tech. Quindi ciò è dovuto al fatto che il centro di innovazione Skyway a Sharia svilupperà non solo il trasporto di stringa, ma anche altre tecnologie verdi come quelle legate all'energia solare. Quindi Skyway Green Tech è il nuovo ramo d'azienda o la nuova azienda costruita che porterà allo sviluppo delle centrali solari. Infatti nel nuovo piano di sviluppo di Skyway è ribadito anche il concetto che si creeranno dei parchi solari per la produzione di energia rinnovabile. E questa è una situazione molto importante. Detto questo, chiaramente abbiamo altre notizie importanti che sono fondamentalmente aspetti generali di cui si parla in generale. Ed è l'ultima tendenza che è quella di, nelle nuove città, nelle città anche non solo nuove ma anche nelle classiche città, è quella di avere la necessità di vietare le automobili. Io abito a Bologna e nel periodo invernale soprattutto c'è il blocco delle auto, delle auto Euro 3, Euro 4, Euro 5, ma non basta il blocco delle auto per l'inquinamento. Quindi la tendenza dell'urbanistica è quella di evitarle proprio tutti i giorni. e c'è un sito molto autorevole che è il futurisme.com che ha annunciato che c'è l'intenzione di vietare il traffico automobilistico in una delle strade più trafficate di San Francisco. E questa restrizione riguarda totalmente le auto, compresi anche i taxi, che operano sulla base delle piattaforme di condivisione Uber e Lyft. perché vogliono assolutamente vietare il traffico automobilistico? Perché ogni giorno circa mezzo milione di persone camminano lungo questa strada e è uno dei luoghi più pericolosi se consideriamo il numero di incidenti stradali che si verificano. Quindi oltre all'inquinamento e quindi portare malattie anche alle persone che magari non guidano le auto ci sono tutti i giorni degli incidenti stradali. C'è una... Purtroppo la sfortuna che andare in macchina, in motorino, ma anche a piedi, in bicicletta è diventato improponibile per tutti. È veramente pericoloso. Quindi c'è la forte esigenza di creare un ambiente diverso, non più trafficato come è adesso, ma cercare di avere città dove si ripensa un pochino il modo di vivere, il sistema di trasporto urbano. E quindi anche negli Stati Uniti si parla di ridurre l'inquinamento, di ridurre il traffico automobilistico e c'è ovviamente il rifiuto totale delle auto a fermarsi. Perché? Perché le persone sono abituate a muoversi con l'auto. E quindi questa è una cosa importante. Ovviamente in termini di sicurezza, Skyway sta portando avanti i suoi test e attraverso l'intelligenza artificiale, attraverso i sensori che sono posizionati sui mezzi di trasporto, si fanno dei test di riconoscimento degli oggetti di trasporto di stringa sulle eventuali persone o animali che possono attraversare la linea nella fase in cui i mezzi sono a livello del terreno. Pensate che i mezzi possono riconoscere persone dietro a una colonna e quindi rallentano. Anzi, questi mezzi possono anche andare in retromarcia qualora gli individui andassero verso di loro. Quindi il nuovo controllo dei sistemi di sicurezza ha dimostrato che ovviamente nessun oggetto sulla strada, nessuna persona che si muove possono danneggiarsi attraverso il passaggio dell'unibus. Quindi non c'è più bisogno di accertarsi che ci sia un mezzo perché questo mezzo nel momento che ci fosse un rattraversamento si blocca, si ferma. Quindi c'è una sicurezza elevatissima in termini di standard. Qui vedete fotografie che abbiamo già visto più di una volta quindi vado avanti naturalmente. La produzione di Skyway a Minsk è partita. L'edificio, l'ultimo edificio che è stato inaugurato è un edificio che chiaramente va a sopportare la produzione delle parti rotabili dei mezzi di produzione e andrà a sopportare i mezzi di produzione che devono essere costruiti per la linea negli Emirati Arabi. Considerate che a ottobre 2020 parte l'Expo negli Emirati Arabi. Quindi sono previsti 25 milioni di persone e quindi è un punto nevralgico dove Skyway vuole essere pronta a farsi conoscere, a ricevere queste persone e soprattutto queste persone potranno utilizzare io credo questa linea che si sta costruendo. Altre iniziative importanti di Skyway dal laboratorio di Skyway a Minsk è l'Humus per il mondo intero. Quindi il brand si chiama Uniterra ed è l'Organic Humus che è l'Humus organico generato in laboratorio e chiaramente attraverso anche il supporto dei sostenitori di Skyway che hanno portato 1-2 kg di terreno incontaminato quindi senza parassiti, senza agenti chimici per la fertilizzazione del terreno quindi terreno assolutamente naturale che proviene da diversi paesi e quindi dal laboratorio è stato generato questo Humus quindi esiste una linea di Skyway legata al modo di sviluppare in biotecnologia il Greenway, il modo verde. Quindi abbiamo anticipato prima che ci sono state di recente trattative con un possibile fornitore di materie prime per la produzione in serie del trasporto di stringa questo fornitore è un'azienda molto importante la Beckhardt belga è presente in 45 paesi nel mondo e vanta di 29.000 dipendenti quindi è un'azienda molto molto grande ed è un'azienda che ovviamente si sta affacciando a Skyway proprio per la fase commerciale nell'Eco Tecnopark c'è un nuovo complesso di prova Skyway che è stato lanciato presso appunto l'Eco Tecnopark questo nuovo complesso è utilizzato per diciamo i test di Skyway quindi l'Eco Tecnopark ha sempre più delle parti importanti e Skyway ha comunque sempre dei riconoscimenti nel trasporto di stringo alla fiera di Tracco 2019 ha avuto un riconoscimento importante e il portale giapponese Mira Skyway può entrare a far parte del sistema di trasporto globale quindi ci sono delle riviste straniere a differenza delle riviste italiane che magari snobbano il prodotto o l'idea di Skyway all'estero tuttavia è vincente il discorso veniamo un pochino al punto dove siamo oggi allora quattro anni fa è stata messa la prima pietra nell'Eco Tecnopark oggi siamo in procinto di passare alla fase 14 è già stato enunciato che ci sarà un cambio di fase non è stato enunciato il giorno esatto la data esatta a dimostranza del fatto che lo sviluppo sta andando avanti le fasi per chi è nuovo quindi per Gisella sono praticamente 15 ogni fase prevede un cambio di sconto quindi chi acquista delle quote di Skyway chiaramente ha uno sconto cioè per ogni dollaro ne vengono consegnate più di una e questo sconto sta ovviamente diminuendo in ogni fase c'è una riduzione siamo nella fase 13 ultima quasi 14 per poi mancare due fasi quindi siamo nelle ultime due fasi logicamente in questo momento siamo nell'inizio della fase commerciale cioè vera e propria di sviluppo e produzione delle linee per i vari progetti che si stanno divulgando e diffondendo nei vari paesi che sono interessati allo sviluppo di Skyway quali il Peru, Russia, gli stessi Emirati Arabi Mongolia e via dicendo a tanti altri in Svizzera e naturalmente è stata creata una roadmap c'è una mappa una strada di sviluppo dove chiaramente c'è lo sviluppo delle linee diciamo su vere e proprie di installazione e lo sviluppo progettuale delle linee è ancora da considerare qui c'è un roadmap che va fino al 2050 quindi c'è uno sviluppo enorme che prenderà campo in tutti i settori quindi ci sarà una crescita del volano economico importantissima perché aziende fornitrici dei materiali andranno a alimentare quindi di nuovo un'economia che magari in certi contesti può essere di flessione oggi il mondo dei trasporti porterà una forte crescita a discapito magari di settori dove la crescita sarà in diminuzione come ad esempio le fonti non rinnovabili quindi qua ci sono tutti degli step 2020 abbiamo il progetto dell'alta velocità per 25 km negli Emirati Arabi tracciati nel regione di Mosca e Mongolia quindi progetti su Mosca la regione di Mosca e la Mongolia commissioni di Skyway Invest Center Innovation negli Emirati Arabi quindi ci sono delle ci sono delle assegnazioni di progetto nel centro di innovazione nei Emirati Arabi dove si sta sviluppando anche l'azienda Green Green Tech ovviamente c'è uno sviluppo flessibile sulla complessità di progetti che Skyway andrà a totalizzare per una lunghezza di 50 km a questo punto quindi ci sarà un aumento sia dei km installati sia dei km progettati a seconda delle delegazioni che sono andate in visita negli Emirati in Bielorussia quindi anche il trasporto di stringa per gli Urali sta andando avanti c'è stato un convegno importante a giugno di cui ne abbiamo già parlato quindi questo è il centro di ricerca innovativo a Sharia che è in fase di costruzione i processi di costruzione stanno andando avanti quindi siamo in linea con gli step di sviluppo qui vedete alcune immagini che ormai sono datate perché abbiamo già visto delle configurazioni importanti e autunno 2019 era stato anticipato qualche mese fa prima dimostrazione del trasporto di stringa Skyway degli Emirati Arabi a Sharia e a dimostranza del fatto che proprio in autunno siamo in autunno e in questi giorni c'è stata la dimostrazione del trasporto di stringa Skyway negli Emirati Arabi questo è un valore incognabile cioè cosa vuol dire? vuol dire che quello che viene previsto poi è accaduto quindi l'azienda Skyway è un'azienda affidabile perché quello che viene detto viene sviluppato e questa è una dimostrazione del fatto che quando una persona dice autunno 2019 c'è la prima dimostrazione del trasporto di stringa e nell'autunno 2019 avviene veramente questo è un indice di alta affidabilità da parte dell'azienda abbiamo detto che Skyway sta a realizzare ha creato una nuova azienda che si chiama Green Tech è un'azienda che si occuperà dello sviluppo delle degli impianti solari e ovviamente sappiamo che la filosofia di Skyway è quella di introdurre tecnologia verde altamente efficace nel settore dei trasporti delle infrastrutture e dell'energia quindi Anatole Iunischi che è il General Designer è l'ispiratore ideologico di questo progetto a tutti gli effetti e ha predisposto uno sviluppo della strategia aziendale identificata in tre fasi la prima è quella di creare centrali solari e progetti di carichi commerciali quindi centrali solari e progetti di impianti di trasporto quindi progetti di sviluppo il secondo passaggio è il trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali e il terzo passaggio è il trasporti ad alta velocità e complessi infrastrutturali quindi i complessi infrastrutturali sono presenti in tutte le fasi questi complessi di trasporto sono ovviamente supportati da infrastrutture di secondo livello e questa azienda che è la Green Tech Green Tech di Skyway si occuperà di costruire queste centrali elettriche solari quindi pannelli solari che forniranno energia elettrica al complesso di trasporti alle infrastrutture e quindi agli insediamenti attraverso i quali la rotta Skyway si svilupperà e attraverso anche le eco-case quindi ci saranno villaggi eco-sostenibili che sono costruiti tenendo conto del paesaggio e della e della rosa dei venti con l'uso di tecnologie verdi e del paesaggio del tetto fornito di energie rinnovabili quindi la disposizione delle case sarà ovviamente studiata appositamente per la rosa dei venti quindi per sfruttare il vento per sfruttare il sole e quindi villaggi ecologici completamente sostenibili per un'energia pulita verranno create chiaramente anche delle stazioni a torre dove ci sarà la fermata delle linee Skyway c'è chiaramente una piattaforma di blockchain già pronta per la raccolta dei fondi sui progetti mirati e si pianteranno chiaramente alberi piante da frutto piante che in un terreno arido come quello del deserto sarà di difficile coltivazione in realtà con l'apporto dell'humus che è stato appunto creato realizzato nel laboratorio ecotecnologico di Skyway si potranno avere sempre più contesti sempre più verdi in mezzo alla tecnologia i progetti mirati saranno appunto finanziati da questo token di Skyway Group che si chiama Skyway Group Tokens come metodo di pagamento per i suoi servizi questo token avrà un'enorme validità perché qualunque azienda che si avvicina a Skyway accetterà solo Skyway Global Tokens come metodo di pagamento per i suoi servizi quali sono i servizi lo studio di progettazione e design la costruzione di cavalcavia di trasporto costruzione di infrastrutture di trasporto nel secondo livello controllo intelligente della sicurezza delle comunicazioni tra i vari dispositivi di movimento consegna del materiale rotabile messa in servizio della supervisione dell'installazione che mette in funzione l'oggetto controllare la manutenzione e la riparazione quindi qualsiasi società che desidera lavorare con Skyway e vorrà acquistare un veicolo costruito attraverso una stazione ferroviaria dovrà innanzitutto acquistare questi Skyway token con scambio al prezzo di mercato questo assicura che ci sia una crescita stabile dei token e questi token saranno appoggiati anche dall'energia quindi dalle centrali che producono energia bene sul sul vostro account personale se voi andate in partner avete dei siti molto molto belli che potete utilizzare per diffondere il progetto di Skyway abbiamo già detto che siamo nelle ultime due fasi siamo già stato preannunciato il cambio di fase 14 non c'è una data ancora precisa ma è imminente questo passaggio della fase 14 e chiaramente il concetto della fase 14 è un concetto che il cambio di fase non è dettato solo dalla raccolta dei fondi ma è dettato da tutta una serie di step operativi e di sviluppo della tecnologia e delle certificazioni sappiamo che le quote di Skyway sono quasi ultimate sono state distribuite le percentuali di interesse altre percentuali verranno messe poi a disposizione nell'apertura nella quotazione in borsa la Global Transport Investment ha distribuito 400 miliardi 867 milioni 433 mila quote suddivise come il 15% all'Eurorail Skyway System Holding queste quote sono di tipo B poi c'è il 18,33% su un'altra società dello stesso tipologia che ha contribuito al 50% meno 1 agli investitori di tipo A poi c'è un'altra società con un 34,42% che sta distribuendo il 50% agli investitori sempre di tipo A quindi le quote sono state assegnate a queste società sono di classe B e le hanno distribuite agli investitori di classe A questo per fare in modo che la investitori vuol dire che noi investitori avremo quote di tipo A nelle in queste società nell'Eurorail Skyway System Holding con possibilità di gestione mentre le holding a loro volta hanno quote di tipo B sulla Global Transport Investment quella operativa questo meccanismo è un sistema per non permettere a terzi investitori di arrivare a gestire la società operativa Minsky se ha predisposto affinché la sua società sia sempre diciamo saldamente in buone mani il restante percentuale di quote è posseduto dalla Uninsky Corporation che ha il diritto di amministrare la Global Transport Investment con quote di tipo A resta una riserva del 2% di 8 miliardi di quote di sempre di tipo A questo è un pochino la il processo di distribuzione delle quote che è avvenuto a partire dal 2014 quelli che si affacciano al progetto oggi hanno ancora un enorme vantaggio un enorme guadagno di possibilità di poter evolvere in un potere d'acquisto enorme su queste quote questo non è un progetto finanziario quello che diciamo è puramente informativo per dare informazione del fatto che c'è la possibilità di partecipare a queste soluzioni nulla toglie che questo non è un prodotto finanziario non ci sono garanzie di nessun tipo sulle percentuali che potrebbe generare queste quote tuttavia il rischio che c'era 4 anni fa è notevolmente ridotto ai minimi termini perché siamo in direttura d'arrivo per questo progetto quindi il sistema Skyway è un sistema ecosostenibile riguarda diversi settori diversi contesti soprattutto si parte da un concetto che è quello del sistema di Skyway con il concetto di internet delle cose quindi Skyway è una internet fisica reale che trasporterà qualunque cosa si utilizzeranno dei droni per la costruzione delle linee si useranno in trasporto Skyway modulare attraverso i moduli a seconda del tipo di linea che può essere rigida semirigida flessibile ultra leggera poi abbiamo il settore automobile elettrica quello che ha visto Juninski nel sviluppare un nuovo modello per quelli che non hanno la possibilità di camminare possono accedere alle auto direttamente con il proprio mezzo di mobilità quindi avete ancora la possibilità di diffondere questo progetto è importante che diffondete ancora l'informazione verso i vostri conoscenti perché la possibilità di avere ancora delle quote a bassissimo valore possono essere ancora acquistate in questo ultimo periodo di tempo si avranno dei dividendi erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote indipendentemente che l'azienda sia andata ancora in quotazione o no ovviamente i dividendi saranno proporzionati alle quote possedute in quel momento bene mi sa che non ho le slide aggiornate perché non me le ha caricate ahimè vediamo un po' comunque sia ci sono ancora le possibilità di sconti importanti per varie tipologie di situazione aggiungo che le persone hanno la possibilità di partecipare questa raccolta fondi con il crowd investing che è un'operazione di tutto rispetto e valida a livello internazionale quello che conta da un punto di vista internazionale e tuttavia ci sono delle possibilità di diciamo di partecipazione molto alta per chi è un industriale un'azienda che può essere interessata a collaborare con Skyway ma ci sono anche soluzioni modiche per le famiglie semplici che vogliono comunque partecipare con un numero di quote anche perché vi ricordo che nel 2009 quando il progetto del Bitcoin che non c'entra nulla a che fare con la tecnologia Skyway sono due cose totalmente diverse ma per far capire il concetto che all'inizio non questi valori di queste monete era veramente poco 2-3 centesimi e oggi sapete che è arrivato anche fino alla soglia di 20.000 euro a moneta quindi il concetto è entrare partire con questo progetto di Skyway è fondamentale proprio nell'ottica di diversificare di avere un potere economico diverso rispetto alla massa proprio perché in questo momento molte persone non conoscono il progetto se molte persone lo conoscessero deciderebbero eventualmente di partecipare molte persone non lo sanno ancora e molte persone lo impareranno solo dopo che non si potrà più avere questa possibilità questo è un pochino in sintesi quello che vi dico questa sera riepilogo le notizie le ultime notizie sono quelle del servizio a sharia della televisione araba questo è un diciamo un'accelerazione forte alla consapevolezza che Skyway ha delle soluzioni di trasporti intelligenti e vincenti e naturalmente c'è anche un discorso legato che al momento commemorativo di quattro anni fa quando è stata messa la prima pietra migliare proprio nel mese di ottobre sul posto di un ex poligono per carri armati è avvenuta questa diciamo inaugurazione il chilometro zero e qui è iniziata la storia dell'Eco Tecno Park Skyway il centro per la dimostrazione il collaudo e la certificazione degli sviluppi innovativi della tecnologia del trasporto di stringa naturalmente solo attraverso questo parco l'unico modo che ci sia uno sviluppo è una dimostrazione della tecnologia attraverso questo parco questo parco chiaramente è un parco che ha portato l'interesse di milioni di persone a far vedere che la tecnologia funziona a delegati di paesi che hanno voglia di sviluppare attraverso Skyway e quindi il parco l'Eco Tecno Park è stato di fondamentale importanza di primo ordine affinché ci fosse la possibilità di sviluppare la tecnologia Skyway in altri in altri paesi quindi il il chilometro zero è un simbolo fondamentale e questo chilometro zero è raffigurato da una mappa dell'Europa dove la Bielorussia ha preso il posto centrale anche perché il trasporto di stringa ha origine in questo punto in questo Ecotecno Park e il segno di riconoscimento è una lastra di cemento armato del peso di mille tonnellate che ripete anche i contorni del paese questo questo chilometro zero fa parte delle fondamenta del supporto di ancoraggio che in seguito è diventato una stazione passeggeri di Skyway quindi questo lo potete vedere purtroppo non ho mi sono accorto che non ho caricato l'ultima slide e quindi non ve lo posso far vedere mannaggia vabbè e lo vedremo la prossima volta comunque sia il il progetto Skyway sta andando avanti c'è stata l'inaugurazione della prima linea di 400 metri a Sharia dove Lemiro è stato è stato invitato a vedere questa tecnologia è salito sull'unibus tropicale l'ultima l'ultimo modello che è stato sviluppato dalla Skyway dove ci sono c'è la possibilità di condizionare l'abitacolo con due modalità diverse che altro dire io sono molto fiducioso e contento del progetto Skyway siamo alle porte di un di una conclusione finale che sarà con il diciamo l'esito finale dell'inizio dell'expo 2020 a ottobre dove Skyway sarà pronto per ricevere 25 milioni di persone che verranno in visita all'expo negli Emirati Arebi quindi Skyway avrà un'immagine e sarà sfruttato per veicolare le persone all'expo io credo che la linea di 15 km con 21 stazioni avrà questo compito di sviluppare di essere pronta per ricevere tutte le persone che arriveranno a visitare l'expo 2020 bene con questo io direi che possiamo concludere vi do appuntamento alla prossima settimana sempre alle ore 21 ci teniamo aggiornati io credo che non sia finita la il momento di parlare con le persone perché io credo che avete sempre la possibilità di far recepire alle persone quello che è Skyway e percepire quello che sarà più che è anche quello che sarà e quello che diventerà nella logica dello sviluppo nei vari paesi e nella ricerca che si sta facendo sviluppando e che si sta sviluppando nell'oasi tecnologica di Sharia ringrazio anche Gisella che si è interfacciata e ha visto un po' di presentazione dico un po' perché l'ho vista altalenante un po' c'era un po' no comunque sia grazie per il tuo la tua volontà di esserci ci riaggiorniamo e approfondiremo in altro momento con Gisella buonasera a tutti un saluto da parte mia viva Skyway perché Skyway ci porterà tanti benefici soprattutto alle generazioni future ai figli dei nostri figli si ricorderanno che i nonni o i bisnonni hanno dato una leva importante una svolta importante per tutta l'umanità con un progetto Skyway senza precedenti un saluto a tutti buona serata e un arrivederci alle news che quotidianamente riceviamo dalle newsletter e ringraziamo anche Skyway Capital dell'organizzazione che ci ha dato a disposizione delle pagine formidabili per diffondere e sensibilizzare altre persone un saluto a tutti di nuovo buona serata e ben trovati grazie per il vostro tempo che dedicate per informarvi per tenervi aggiornati in questo grande mercato in questo grande progetto viva Skyway viva noi tutti che lo sosteniamo e ci confrontiamo e ci confrontiamo su tutto quello che è Skyway ogni giorno un abbraccio forte a tutti che è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.